e lo ha dichiarato senza falsi pudori per vincere il titolo poi ci ha messo anche una nota mistica quando ha affermato di voler vincere il mondiale per dedicarlo a Papa Voitila, Giovanni Paolo II, suo connazionale eccolo qui Chiaria Vlodarcic ma prima di venire anche al commento di Nino Benvenuti in presentazione buonasera Nino buonasera a tutti vorrei parlare subito della Smile Train che è un'organizzazione di medici volontari che realizza missioni chirurgiche nei paesi più disagiati per operare bambini affetti da malformazioni del volto ed esiti di ustioni gli interventi di Smile Train ha finito la permesso di far ritrovare il sorriso e la speranza di una nuova vita a più di 400.000 bambini nel mondo occorre sostenerla e dal primo 22 maggio inviare 2 euro se vogliamo alla 48542 da telefoni Team Vodafone Wind E3 oppure da rete fissa Telecom Italia sempre alla 48542 Nino allora sicuramente più potente, più forte, più giovane Vlodarcic però Giacobbe Fragomeni è Giacobbe Fragomeni tosto, duro, resistente e via conosciamo Fragomeni e conosciamo anche il suo passato trascorso da dilettante pensate 9 anni ha fatto il dilettante da dilettante con 140 combattimenti e 100 addirittura con la nazionale italiana professionista grandissimo capitano grande capitano della nazionale naturalmente perché dopo tanti anni, tanti incontri, tante vittorie non poteva essere il capitano e ha fatto da professionista 26 combattimenti una sola sconfitta e 10 dei quali vinti per KO come detto ha 12 anni più del suo avversario ed anche 9, pare 9 centimetri più basso 9-10 centimetri più basso sono tutti dati che dovrebbero favorire il suo avversario ma non è proprio così anche se il polacco più giovane già è stato campione dell'IBF campione dell'Unione Europea vinse contro Kanigan per il titolo di questa sera e poi contro lo stesso ha perduto insomma contro Fragomeni è tutto da vedere perché Fragomeni è veramente uno di quelli campioni che sul ring sa notare tutto abbiamo il vice presidente federale dottor Antonio Di Greco un mondiale che si colloca in un momento direi anche particolarmente effervescente del molto pugilato la cosa simpatica la direi così che sia proprio un quarantenne a par da traino e da capofilo diciamo che episodi più recenti nel panorama internazionale ci mostrano atleti ormai quarantenni se non addirittura 45 anni ai vertici delle classifiche internazionali quindi l'età al momento non importa lui rappresenta una generazione e come questa generazione ha portato avanti la box negli ultimi anni è sicuramente un fatto molto positivo ma vediamo Fragomeni appare abbastanza in forma questa sera concentrato il giusto ed ora siamo agli indi nazionali grazie grazie siamo all'ino nazionale polacco per Christophe Blodarcic grazie veramente un tifo da stadio quello di questa sera da parte dei polacchi tantissimi presenti dall'altro pericolosamente vicini alla postazione anche perché tutti hanno un tasso accolico che potrebbero poterci stare e siamo i nostri fratelli Lino e Iomeli per il nostro Jacopo e Pregomeni e per tutti noi che ci sono i nostri fratelli che ci sono i nostri fratelli Grazie a tutti. 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 È intervenuto e ha fatto rispettare l'ordine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. WBC, il campione di WBC, il campione è Giacomo e Fragomeni che difende la sua cintura per la prima volta. Contro un avversario indubbiamente molto difficile. Sicuramente cintura conquistata il 24 ottobre. dello scorso anno, il destro a vuoto di WBC, il destro a vuoto di Blodarcic. dovrebbe, ma... Blodarcic si muove molto bene anche sul tronco e Fragomeni entra comunque con il suo sinistro anche se è più breve di misura. Deve stare il sinistro di Giacomo e Fragomeni. Assegno. Molto bravo Giacomo e via, ma tocca a Blodarcic. È molto veloce, eh. Non carica e copia il pugile colacco, ma è molto preciso. Sì, è una struttura fisica eccezionale vicino a quella di Fragomeni che è piuttosto più basso, ma il tarchiato è comunque molto compatto. È chiuso, attenzione. Questi golpi larghi... Riesce a... Attenzione, a montare il sinistro garcio di Blodarcic. Niente male quel montante destro di... Coppi secchi del pugile polacco che non scuotono Fragomeni, ma certamente il destro di Fragomeni. Il destro di Blodarcic. Il sinistro di Giacomo. Assegno in pieno volto dell'avversario. Attenzione, coppa basso. Infatto l'arbitro John Lewis subito richiama lo sfidante. Il destro di Blodarcic ha tentato l'incontro. Uno scambio di destri entrambi che sono arrivati a segno. Siccome Fragomeni fa fatica a mettersi in moto normalmente, eh. Ma questa sera ha dovuto... Eh... Si, cominciare subito. Per ragione, proprio ha incominciato... A tambur battente. Sinistri di Giacomo. Il destro anche. Ecco, questa è una bella azione di Giacomo che mi è piaciuto da vicino. I due colpi stretti, stretti che sono arrivati a segno. Reagisce comunque subito Blodarcic. Però quella serie di Giacomo Fragomeni ha un po' rallentato l'azione di Blodarcic. Ce l'auguriamo perché... Beh, ha ripetuto un attimo sulla reattività del campione evidentemente. Ma la pericolosità rimane tutta intatta. Il sinistro largo ma che entra. Perché il guantone di Fragomeni non è così alto perché ha paura Giacomo di scoprire anche i fianchi. Quindi termina una prima interessantissima ripresa sul piano di equilibrio. Ma devo dire con tanta animosità di entrambi che combattività incredibile. Hanno incominciato a tambur battente proprio. Non si sono risparmiati. Intanto pregherò la regia di dare uno sguardo a uno striscione che è stato hissato alle nostre spalle. Salviamo la pugilistica Valconca. Questo è un appello che mi sento di raccogliere di una società di vent'anni sfrattata a Monte Colombo per motivi per la normativa antisismica della loro palestra. Appello ai comuni limitrofi di San Clemente, Morciano di Romagna e Montefiore Conca perché provvedono ad accogliere il centinaio e passa di pugili che sono rimasti senza casa. Per favore fate qualcosa che in verità questi sono degli ragazzi che desiderano solo chiudersi in una palestra per poter lavorare. Speriamo che diano una casa a questi ragazzi sfrattati di Monte Colombo in provincia di Rimini. Andiamo avanti, è la seconda ripresa, primo round con Fragomeni comunque impegnato, impegnato, impegnato al massimo da Vlodacic. Sì, diciamo che è un match che si presenta veramente difficile, infatti è il primo round finito alla Pari e questo sta a dimostrare che entrambi hanno un bel valore. in serie di Vlodacic, montanti, diretti e anche Gatto, poi il testo al segno. Non deve rimanere lì però Giacobbe, deve muoversi e venire via. Fortunatamente. C'è un po' di Maretta all'angolo del polacco, molto bravo. Attenzione. Molto bravo Fragomeni. Mentre ci succede un po' di tutto all'angolo con alcuni polacchi, come detto, non propriamente lucidi. Funziona? Funziona il microfono? Funziona il microfono? Sì. Sì. Sì, sì, no, d'accordo, scusate, ma c'è un po' di Maretta qui intorno al ring, per cui abbiamo dovuto un attimo interrompere la telecrona, che chiedo scusa. Intanto Fragomeni, dopo la sfuriata iniziale dei primi secondi di Lodacic, è riuscito a ricompattarsi. Bravo Fragomeni. E da vicino sta facendo delle belle cose. Sì, e deve rimanere lì, purtroppo, deve rimanere lì. Prende le compi, semmai, però mai fisso, mai fermo. Se continuasse a Dondola e poi sentiremo anche Oliva. Bisogna vedere quale dei due hanno più tenuta e più carburo in corso. Sì, ecco, bravo, bravo Fragomeni. Oh, bellissimo. Ottimo il destro. Destro di Giacobbe, segno. Quello è un bel colpo. Sì, dritto, però deve continuare a dondolare, muoversi, 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 pur rimanendo là vicino. Sembra un controsenso, ma è quello che deve fare. Perché Vlodarcic ha le braccia più lunghe e quando le usa ci arriva con più facilità. E lo tiene a montano. Lo tiene il destro e il sinistro. La serie velocissima di Giacobbe, segno. Questi sono due colpi che valgono veramente il round. Sì, è stato bravissimo Giacobbe. La reazione di Vlodarcic. Ma finisce sui guantoni. Sì, questa alta, questa no. Ancora? Olà, il destro pesante di Vlodarcic, l'ha sentito Giacobbe. Dopo che aveva portato lui un bellissimo destro. Sì, l'ha sentito questo destro di rientro dire quasi di Vlodarcic. Non può fermarsi, non deve fermarsi. Brutto finale di ripresa. Giacobbe ha sentito quel destro. E fa fatica a digerirlo, a mio avviso. Termina, sì, meglio così. Andiamo subito a sentire l'angolo di Fragomeni con Patrizio Oliva. Sono sentito. Ciao. Stai tesa. Ma quello che stai facendo di fare? Così. Giacobbe. Ascolta. Lo vedi come è rigido? Sì. È rigido ed è lento. Hai visto quando blocchi e subito ti rimessi come se ne piglia? Sì. Non devi... La cosa importante è non ti incrociare che vedi che porta lui il destro e ti dai a incrociare col destro. Assolutamente. Quando stai vicino, aspetta che ha colpito. Dopo che ha colpito ti rimetti con maggiore esplosività. Cominciamo a far uscire un po' l'esplosività dei colpi adesso. Meno colpi ma belle. Hai visto il destro come ci sta? Sì. Lui sta tutto affrontando. Quando ti abbassi sulle gambe, l'1-2, ci sta bene. Il destro lo prende. Per favore, quel destro ogni tanto, quel tronco ogni tanto, ta, ta. A piccoli scatti. Infatti anche Oliva suggerisce di muoversi sul tronco, ma tutto giusto. Si, si. Non può. Assolutamente. E quando replica immediatamente, quel destro è stato bellissimo, quello che abbiamo sottolineato e si è riferito anche Oliva. Come ne sembra fino adesso, dottor De Greco? Diciamo che ero distratto da quello che accadeva di dietro, che è abbastanza rumorosa, c'è una folla abbastanza rumorosa. Diciamo che Fregomeni, come sempre, ha iniziato molto lentamente, però chi ha visto questo Pugile Polacco in allenamento lo ha veramente descritto come una persona molto, molto dura. Vediamo. Giacobe sembra sicuramente in grado di dipendersi fino in conto bene. E sta caricando i colpi adesso. Sì, è vero. Si sta caricando parecchio. Ha colpito. Attenzione, Giacobe. È veloce poi il Roder Cicchio. È un avversario difficile, molto difficile, soprattutto per il motivo che ha una statura incredibilmente più alta. Sì, però Fregomeni è abituato a puggi comunque più alti, è abituato a soffrire. È una grande capacità mentale soprattutto di soffrire. Abbiamo visto adesso una bellissima serie di Fregomeni e è quella che deve fare. Certo. Attenzione a non rimanere lì, Giacobe. Benissimo. Ancora colpi bassi di Svlodarcic. Svlodarcic reagisce con violenza notevolissima. Sì, risponde. Ai colpi di Fregomeni. Non ci penso assurde volte. Il destro di Fregomeni. Questo è un colpo. Pesante. Arrivato a segno. Destro pesante. Si è fermato per un momento a Vlodarcic. E l'ha sentito? Sì, per un momento soltanto però. Poi si mette a distanza Fregomeni ma non dovrebbe. Dovrebbe stargli addosso probabilmente. Ma io credo che qua veramente c'è la fortuna di chi azzecca il colpo nel momento preciso e nel punto giusto. Ah, si è spostato bene, Giacobe. Occhi ben aperti da parte di Fregomeni per inquadrare il pertugio necessario per arrivare a segno. Attenzione in uscita. Il destro di Vlodarcic su Guantone. Ancora Fregomeni avanti, attenzione a sinistro. Certo, una grande quantità di colpi, quella che ci sono scambiati. Ottimo sinistro. Il gancio sinistro di Fregomeni a segno. È stato un grande effetto. Bravo a schivare. Sono bei colpi quelli di Giacobe. Forse perché accompagnati dal boato della folla presente qui al Gran Teatro di Roma. Diventa pericoloso il polacco quando allunga il suo jab sinistro. Un po' fermo Giacobe in questo finale di round. Ferma l'azione di Giacobbe. Corsa montante di Giacobbe. È il sinistro. Lo ha fermato in tutte le circostanze nelle quali Giacobbe tentava di affacciarsi a serie di Vlodarcic. Deve interrompere però. Ecco qua Fregomeni. Sì. Deve interrompere. Ma Vlodarcic reagisce. Dei bellissimi colpi di Fregomeni ma c'è sempre il fumo della reazione. È Vlodarcic. Il destro di Fregomeni a segno. Montante di Vlodarcic. Ingancio di Vlodarcic. È termina. Fregomeni ha portato i colpi più belli. Sono colpi che sono arrivati a segno. Bellissima. Ne ha portati tanto di più il Giuseppe Colaccio. Una terza difesa molto dura. Andiamo all'angolo. Sentiamo. Non scambiare. Lui vuole questo. Perché ogni tanto lui sta fuori casa. Ci prova. Che se ne fotte. Come va va. Non cadere nella troppa di scambiare. Ti ho detto da vicino. Dopo che ha colpito lui. Subito tutto di messa. Esplosivo. Se li prende Giacobbe. Ok? Però, per favore. Fallo camminare. Non gli stare davanti. Il trompo. Findalo. E cammina. Cammina. Fallo. Fallo intitriciare. Fallo colpire. Farà tre ancora quattro anni. Posso andare a casa. Ok. Non fa male come hai questo. Fa male come hai. E allora. Tranquillo. Non scambiare. Ma non scambiamo. Dopo di lui. Cofficienza. Riva sta dicendo. Non scambiare. Perché ha tutto da rimetterci. Fregomeni. Soprattutto non rimanere fermo lì davanti. Ma ha detto che non fa male come hai. Ma ha detto che è pesante però. Si è pesante. Certo. Che poi non faccia male. E' beato Fregomeni che non li sente. No no. Beato Oliver che lo dice. No no. Ma ha secondato. Siamo comunque alla quarta ripresa. Un combattimento molto bello se vogliamo. Ma molto duro. Molto duro. E invece ha fatto tutto sulla corta a distanza. Tutto colpi avvicinati. Si muove. E come riesce a muoversi un po' di più. Pregomeni. Ecco. Però. E il destro di Giacobbe. Reattisce subito. Lodacic ma va a vuoto. Un destro largo che non va da parte del polacco. Bene. Bene a muoversi così. Si muove. Si. Bene a muoversi così. E. Non deve prendere i colpi. Che. Questa serie non deve rimanere. Non deve rimanere lì a pigliarsi. Questi colpi. Perché sono colpi che anche se vanno sui contorni sulle brazze fanno male. E alla fine. 1-2 di Fregomeni. Che poi i colpi. Giacobbe riesce a metterli. Ancora due. Gazzo destro e sinistro. E che Polacco. Replica immediatamente. Ma è andato a più a vuoto. Lodacic. Giacobbe. Attenzione. Di sinistro i Fregomeni. Il destro di Lodacic. Ci scambiano delle mazzate terrificanti tutti e due. Sparano dei colpi che sono. Si. Va via Fregomeni. Sono due pugili sani, sanissimi. Forti, fortissimi. Perché. Come si fa? A tenere un ritmo ancora questo. E poi non dimentichiamo sempre che abbiamo davanti un 27enne contro un 40enne quasi. Attenzione. Non deve rimanere il femmo però Giacobbe. Giacobbe. Non mi piace quando fa così. Si. Questo va bene. E ma anche lui deve respirare e prendere fiato. E insomma questo è un combattimento. Lui con la testa dovrà star lì sempre in maniera spasmodica. Si. E lì ci stava Montantino. Qualche volta abbassarsi sulle ginocchia e portare il gancio sinistro. Anche Vlodarcic però. Adesso è Fregomeni che è fatta. Deve tirare il fiato perché ha avuto due o tre occasioni il polacco per colpire. E invece è rimasto fermo. Adesso è ripreso sugli assalti di Fregomeni. Ha capito che deve anche difendersi. Un po' a te e un po' a me. Adesso Fregomeni sta andando benissimo perché il polacco ha rallentato per un attimo. Ancora. E' un bel momento questo. Dai Giacobbe. Un destro intanto per fargli sentire ancora qualche cosa. Così, così, così. Bravo Giacobbe. Reagisce Vlodarcic ma l'età con le braccia lente. Sono lente le braccia di Vlodarcic. Poi viene via Fregomeni e fa bene. Ottime le risposte di Fregomeni. Soprattutto i colpi in gancio. In destra attenzione di Vlodarcic. Tenta il montante. Giacobbe poi lega e termina una bella quarta ripresa da parte del nostro Cugido. Non c'è che dire. Una bella quarta ripresa. Una grande fatica però. Una grande fatica. Vediamo chi dei due saprà arrivare più lontano. Con più energie. Perché veramente stanno tenendo un ritmo infernale. Giacobbe secondo me è riuscito ad accorciare ed entrare proprio in misura. E questo ha messo in difficoltà il polacco. Ritengo che il polacco a distanza sia molto più pericoloso. Sentiamo Liva. A non scambiare. Si. Stai, stai addosso. Stai a dargli pressione. Anche a fare meno. Non spiegare energie. Ok. Dopo che ha colpito lui. Pochi colpi. Esplosivi e tiri chiudi. Lui così crolla. Non scambiare con lui. Perché lui si sta buttando nella disperazione. O io o tu. E tu non devi dare questa possibilità. Ma sei chiuso. Fallo colpire sulle braccia. Fallo camminare Giacobbe. Fallo camminare. Fallo colpire. E dopo tu. E' finito. Non ci sta più. E' stata la quarta ripresa. Finito i patrizi. Ma non è sbagliato quello che dice Libra. Rallenta i colpi. Cioè danni meno. Come lui ti colpi sulle braccia. Rispondi subito veloce. Non è sbagliato. Questo è giusto anche. Ma è quello che sta facendo. È solo che non può sempre. Non può farlo sempre fare. E ogni volta che reagisce e che replica il nostro Fragomeni. Trova immediata anche la risposta del Polacco. Un po' meno pronta la risposta nella quarta ripresa. Siamo nel quinto round. Difatti ha rallentato. Siamo nel quinto round. A lei. L'ultimo minuto ha rallentato moltissimo. Da come Fragomeni. Antroncini e Vario Pinti. Nettamente più basso. Difende per la prima volta al suo corone di data. Ha trovato scoperto e lo ha colpito in maniera chiara e precisa. Fragomeni è di una lucidità enorme. Sfrutta tutto. Ben chiuso. Molto bene. Peccato. Adesso c'è da vedere chi dei due... Il destro è andato. Chi dei due rallenta per primo. Non sarà Fragomeni. Questo lo posso scommettere anche accettando il scommesso. Lo conosciamo bene nemmeno Glodarchip. No, non ha importanza. Oh, buono. Gaccio quasi montante a parte di Giacomo e poi gaccio destro. Si, si, si. Si gira. Bravissimo Giacomo. Ha fatto un'azione straordinaria. Spostamento azzeccato. Destro contro destro. Un destro per uno. Si gira e trova il tempo per andare a segno. Ottima quest'azione di Fragomeni che ha saputo evitare poi la risposta. Lente le braccia di Glodarchip in questa fase eh. Non più come prima. Deve aver sentito qualche cosa a Glodarchip nel corso dell'inizio della quarta ripresa. perché altrimenti un rallentamento repentino in questo modo non si spiega, no? Si, di fatti lui sta rallentando molto e adesso pare che per Fragomeni le cose si mettano meglio. Eh, ma è lunga eh. Poi ci sono dei momenti durante il combattimento che uno ha bisogno di prendere fiato. Destro di Fragomeni a segno. Replica però immediatamente anche il polacco. Uno, due, tre colpi di Fragomeni a segno. Destro da lontano. Destro dell'uno e dell'altro. Sinistro di Fragomeni. Ancora la replica. Che si lancia quasi sull'avversario. Ancora la replica immediata di Fragomeni che tocca il bersaglio. Si, si. Si è buttato quasi. Adesso lo vedo. Sinistro, si. Li ha sentiti questi due colpi? Si. Vorrei poterli vedere. Sono due colpi che sono stati accusati. E dopo Tomassetti si può portare. Si da greco. La differenza fra il quarantenne e il ventisentenne non la vedo più adesso eh. No, non si vede. Non si vede. Bravo Fragomeni. Anzi direi il contrario. Bravissimo Giacobbe. Però non andare troppo avanti però. Oppure vai avanti ma colpisci. Dovrebbe farci cercare un pochino. Farsi venire addosso. Però è inutile stare a dire. È il suo modo di boxare. Non ha vuoto però. Quel destro peccato che non è arrivato ma. E termina. Una quinta ripresa come quella precedente. Tutta per Giacobbe. Bravo Fragomeni. Ora mentre il regista. Sta cambiando, sta cambiando le cose. Da questo, dal round precedente a qua abbiamo visto un calo chiaro e repentino del polacco. E Giacobbe se ne sta approfittando. Sentiamo. Continuo a dire, arrivo di non scambiare. Sentiamo l'angolo. Un lavoro è questo. Arrivi vicino. Scendi sulle gambe. Ok. Che avvicini e porti 1-2 in mezzo ai quanto vuoi. Vista così. Portali qui in mezzo. Poi. Destra e gancia. Avvicini quando vedi così giù. Quei lavori che facciamo con le figure. Bam. 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 Falli. Fallo camminare. Vedi come stai bene. Vedi come stai bene. Un po' più esplosivo. Bravo Patrizio. Vada come vada. Ho la sensazione che quando sta per cominciare la sesta ripresa si è più fresco Giacobbe Fragomeni che un oblò dal Cicchi. Ma sicuramente. Poi quello che dovrà succedere però la mia sensazione è questa. E comincia la sesta ripresa. Ed è Fragomeni che attacca per primo con un diretto destro al corpo. E repliche immediatamente che continua. Risponde Vlodacic che fa un tantino rigenerato in questo inizio di ripresa. Bravo Fragomeni. 1-2. Tre colpi. Ma sono colpi questi che il Polacco ha sentito. Si ha sentiti si. Ho visto. Ancora Fragomeni il destro si incrocia da parte dell'uno e dell'altro. Il gancio destro di Fragomeni. L'uno, due, tre, quattro colpi di Vlodacic. Ma fortunatamente le braccia alte. L'ultimo destro è andato a segno pur passato attraverso la schivata del Guantone che ne ha deviato un po' la traiettoria. Ancora Fragomeni. Ancora Fragomeni. Ma si sta vedendo un Fragomeni che va a toccare il bersaglio quando decide e lo fa in maniera precisa. Rimane un po' sulle sue. Va molto indietro. Vlodacic reagisce bene. Il destro di Fragomeni. Ma Vlodacic ha cominciato questa sesta ripresa meglio di quanto non abbia fatto in precedenza. Una stupenda ripresa. Azione dove Fragomeni ha schivato il gancio sinistro e ha replicato con due colpi precisi a segno. Attenzione a Vlodacic che ha avuto un buon inizio di ripresa. Ora la sensazione è che abbia di nuovo rallentato uno, due, tre, quattro colpi di Fragomeni in serie velocissime. Fragomeni che è straordinario. Ancora il destro dritto che va a segno di Giacobbe. La reazione di Vlodacic. Ancora uno, due di Fragomeni. Tre colpi in sinistro. Il destro di Vlodacic per fortuna. Appena a vuoto. Attenzione alla testa richiama anche l'arbitro. Serie di Vlodacic montanti in uscita da parte del Polacco. Dopo quei due colpi il Polacco ha capito che Fragomeni aveva sentito. Ancora avanza il nostro pugile. Non deve tenere le mani basse. Il destro di Fragomeni. Ancora uno, due. Attenzione. Ha anticipato con il gaccio sinistro il colpo di Vlodacic. È andato a vuoto però lo ha tenuto fermo. Si muove bene. Attenzione. Scambi in parallelo. Sì ma sono stati scambi leggeri questi. Intanto per prendere distanza da parte di uno e dell'altro pugile. Ammesso non concesso che i colpi di massimi leggeri di uomini di 90 kg siano leggeri. Non ci credo. Reazione finale di Vlodacic in questa sesta ripresa che sta per scadere. Il destro di Fragomeni. Ha ripreso attività quasi normale Vlodacic in questa sesta ripresa. Ha fatto più fatica Fragomeni. Attenzione. Ancora Vlodacic sul laborio in chiusura. Ha recuperato il Polacco in questo round. Ma è sempre di Giacobbe. Ecco, uno, due, tre. Ecco. Queste sono le cose belle che può fare Giacobbe quando alla fine del round arriva a segno con quei colpi che veramente possono fare molto male. Sentiamo Oliva sempre. Lo sai quello che abbiamo fatto, no? Tutto quello che abbiamo fatto. Ah? Giacobbe. Sì, sì, sì. Ascolti. Ascolti. Va bene, va bene che lo fai muove, lo fai colpire. Blocca i colpi. Blocca i colpi. Ma tutti sono basso. Sì, bene. Meno colpi devi portare, ma un po' più esplosivi. Non perdere tempo a portare colpi. Porta meno colpi, ma più esplosivi. Guarda lo spiraglio. Pum. Però porta la stessa esplosività. Facciamolo uscire, questa esplosività. Giacobbe, per favore, il tronco. Giusto. Allora, più sulla faccia. Ok? È tutto giusto quello che dice Oliva. Questa sesta ripresa un tantino più appannato, Giacobbe. Direi che aveva iniziato bene, ma poi c'è stata la replica da parte del Polacco. Blocca. Blocca! Sicuramente è difficile da mantenere, però quando gli rilascia la distanza vedo che il Polacco riprende quota. Sì. Appena rientra sotto riesce a dare più continuità alla sua azione, il Polacco si blocca. Deve stare vicino. E siamo alla settima ripresa. Incontro lì. Scambiano colpi due. Un segno anche Fredomeni. Al pare un tantino più esclusivo in questa fase Vlodarcic. Doveva replicare dopo aver schivato il colpo. Ah, due colpi, tre. Ai. Vlodarcic e Fragomeni rimane un po' lì. Si è fermato troppo, non ha replicato ai colpi del Polacco. Sì, ci ha pensato un po' troppo. E ci sta pensando ancora. Insiste ancora Vlodarcic. Forse Fragomeni aveva intuito qualche minuto fa che Vlodarcic stesse un tantino calando. In effetti era vero. Però poi si è ripreso il pugile polacco. C'è stato un attimo di pausa, entrambi hanno respirato a pieni polmoni. Sinistro l'incontro di Vlodarcic che ha anticipato il destro di Fragomeni. Peccato ancora però Giacobbe. Si sposta bene. Riesce a dare energia ai suoi colpi e anche precisione massima. Si sposta e porta i colpi. Quello è il lavoro che sta facendo molto bene Giacobbe. Anticipo. Ancora. Il aggancio destro segno. 1-2 ancora di Fragomeni. La serie del nostro pugile in anticipo su quanto stava per fare Vlodarcic. Sta chiudendo bene le riprese Giacobbe. Va bene questa settima Fragomeni. Attenzione al destro. Eccolo qua la serie di Vlodarcic. Ha tentato in montande e Fragomeni ha incassato un gaccio. Non forte alla lucidità di Fragomeni a togliersi dall'angolo. E ha fatto bene perché non aveva più spazio per scaricare i suoi colpi. Però da vicino riesce Fragomeni a portare dei bei colpi. Si ma appare più chiuso in maniera ermetica il polacco di quanto non lo sia lui. Poi va a segno ancora Giacobbe. 1-2-3 colpi. Lascia libero la tre. Sto per dire lascia libero il gol e infatti sono arrivati due colpi in faccia. Non può lasciare le mani basse. E reagisce Fragomeni ancora colpi a segno. E all'angolo Fragomeni. Grande serie. Qualche colpo ha dovuto subirlo di troppo. Qualche volta l'ha fatto. L'ha fatto. Però ha subito colpi. Alla replica del polacco. Abbassarsi a campana. Una schivata a campana. E allora manda il polacco a luogo. 1-2-3 colpi. Togomini il destro di Vlodarczyk. Che spinge. E chiude con l'ultimo colpo. E' una settima ripresa. Brutta. Una brutta settima ripresa. Perché ha perso un po' di freschezza. Sentiamo se anche Oliva si racconta. Stiamo in quella fase di spezziamo il fiato. Stiamo in quella fase ma adesso spezziamo il fiato. Spezziamo il fiato. Che ho detto? Quando stai vicino? Trovo una falottina. Rimetti tu. Non ti metti a scambiare con lui. E portare 300 colpi anche lui. Dopo che ha colpito lui per favore. Esplosivo. Invece di portarne 8. Portane 3. Ma portali belli. BAM! Alla fa effetto. Ok? Sì. Lavorare meno ma con più efficacia. Sì, sono già due o tre riprese che Oliva la comanda di lavorare meno ma con più efficacia. Però... È difficile farlo. Non sempre riesce a mettere in pratica i suggerimenti dell'Angelo. Anche perché il polacco sembrava che avesse calato e invece sta riprendendo. No. E siamo all'ottava ripresa. Difende il titolo mondiale WBC dei Massimi Leggeri. Giacobbe Fragomeni. Lo sta facendo brillantemente fino adesso considerando anche il valore notevole del suo avversario. Stiamo assistendo a un combattimento veramente dove non c'è risparmio. Uno, due. Tre colpi di Fragomeni. Eh, riesce sempre a partire prima però quando si staccano da troppo corpo i due pugili. Il fatto parlo del polacco. La quantità di colpi che vediamo stasera è incredibile. Non è solito vedere soprattutto due pesi massimi che portano tanti colpi così. Le immagini, ricordo, sono sempre delle stelle 1 di Roma. Attenzione a serie di Vlodarcic. Non ha reagito Fragomeni. Ai. Brutto segno questo. Bruttissimo. Ha dovuto respirare, rigenerarsi e poi provare. C'è riuscito parzialmente. È rimasto a metà distanza Fragomeni. Vlodarcic sta guardando con l'occhio sveglio e aspetta il momento per infilare quel jab. Anche nei momenti più difficili lancia questo jab lungo. Attenzione. Ancora i colpi del pugile polacco. Si chiude Vlodarcic sugli attacchi di Fragomeni. Poi si sposta e fa quello che Fragomeni ha fatto con successo nella terza e quarta ripresa. Lui lo fa adesso. È un momento difficile devo dire questo. Giacobbe deve superare indenne questa ripresa e anche forse la prossima. E regalarsi qualcosa di buono nella decima, undicesima e dodicesima speriamo. Sto vedendo la faccia del polacco quasi sorridente. Ancora i colpi di Giacobbe che vanno a inserirsi nelle serie di Vlodarcic. Vlodarcic. Attenzione ha preso il gomito. Il gomito è pericoloso. Meno male. Abbassa la guardia per liberare il destro. Però poi si espone ai colpi di Giacobbe. È riuscito a colpire a sua volta. C'è stata una bella reazione di Fragomeni ma è il polacco che sta realizzando con più attenzione e colpire le azioni che sono molto belle e precise. Una gran fatica da parte di Fragomeni ma una dimostrazione comunque di vitalità non facilmente riscontrabile. in un pugile con i suoi chilometri. Sentiamo l'Ivan. Sta subendo. Ci racconto. Questo è il lavoro che ha fatto. Lo stavo facendo inizio. Dai. Giacobbe. Muotasci il guerriere. Muotasci il carattere. Muotasci tutto quello che abbiamo fatto durante l'allenamento e tutto quello che ha fatto il futuro. Ok? Muotasci. Ci vogliono le palme. Scatto. Muovendo il polacco sulle mani. Se non stai attaccato è peggio. Scatto però. Non abbracciare colpi. Ok? Certo i consigli sono ottimi, i consigli vanno bene ma adesso bisogna realizzare. Ma diciamo è in qualche parità al momento mi pare di aver capito. In contro? Sì. Secondo la... Hai sentito? Sì. Mi è sembrato dei tre giudici. Uno a favore del polacco, uno a favore dei Fragomeni e l'altro in parità. Io velocemente faccio un po' di conti. Sì, sì. Uno, due, tre. Poca differenza. Due, due. Io c'ho un punto... Ma non sono lì. Forse è uno di loro ripresa per il polacco. Forse perché le ultime tre, le ultime due soprattutto le ha fatte sue. Passiamo comunque alla nona, vediamo se Giacobbe riesce a dare impulso ai suoi colpi. È il campo suo quello di Fragomeni. E non deve permettergli il jab che purtroppo... Non occorre sempre dire che Fragomeni è lì. Ha uno sguardo comunque molto molto determinato. Non ha per nulla... Non ha per nulla intenzione di abdicare, di fare. Il sinistro ha un fegato da parte di Vlodarcic. Sì, certo che Vlodarcic... Prende gomito e cintura di Vlodarcic. Porta dei colpi caricatissimi. Risponde Fragomeni. Intenta di farlo... Colpi non forti di Giacobbe, però interrompono un'azione per un momento di Vlodarcic. Ma deve venire via dalle corde però. Si muove Fragomeni, ma dovrebbe mettersi al centro il cavolo del quadrato. No, non è un bel atteggiamento quello di Fragomeni. È perché da lì poi fa fatica a dare adiosità... Mentre la reazione c'è. Poter arretrare... Sì, la reazione c'è, ma... Da lì non riesce ad arretrare... Il colacco che sta portando i colpi anche da vicino. Oh là là! Ahia! Ha scusato il colpo... Sì. Ma tremendo! Tremendo! Ho trattenuto il respiro ed è diventato rosso. Vediamo se la ripresa. Questa non ci vuole là. Eh, vediamo un po'. È un momento difficile per Fragomeni. Ed è all'inizio del round. Diciamo che Fragomeni ha messo giù il ginocchio. Forse poteva anche rimanere su. Ha preferito recuperare. Eh! No, no, no. Cosa vuole fare? E lo ha fatto di nuovo. Si è messo giù ancora? No! 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 Nell'angolo lo stanno tranquillizzando, ha recuperato bene Fragomeni. Eh! Certamente ha avuto il tempo di recuperare. Di molto! åra vediamo! Certo però l'energie del polacco... È del destro di Blodarcic a segno... Per l'engattissimo! È montante di Giacobbe, ancora Giacobbe Fragomeni a segno... Con la forza di tutto il carattere di cui è in possesso ancora! Guarda che roba che sta facendo Fragomeni. E' una cosa incredibile, è una cosa incredibile, Giacobbe è stanchissimo provato dai colpi dell'avversario, ha trovato la forza per portare una serie di colpi al volto, ha la testa bellissimo, finisce addirittura increscendo questo round, dovrebbe tentare di finire il round e poi recuperare nel minuto il gong. Ha finito il round, un round tremendo, terribile per il nostro Magomedic, ha saputo però chiuderlo, chiuderlo in grado. E sentiamo cosa dice Giacobbe però. Senti, senti, mi subito indietro, cazzo, alla prima di ciò, fatti dire indietro, oh, dove staccia con quel crostino? Ci sono, non erano neanche troppo appariscenti quei due colpi, è sembrato quasi la sommatoria di una serie di scade. Sì, probabilmente sì. È sempre così che succede, non è mai l'ultimo colpo. Ecco, è il sinistro, è sì, un gaccio sinistro a testa. È un gaccio sinistro un po' più in testa. Sopra, è quello l'ha sentito. Questo è il secondo. Poi ancora... È una serie di colpi effettivamente. Qui il destro, il sinistro, il destro ancora e... L'occhio tu mi hai fatto del polacco, ma con lo sguardo deciso... Siamo alla decima ripresa e siamo passati attraverso una nona di difficoltà estrema per Fragomeni. Vediamo cosa riuscirà a fare Fragomeni. È un match di combattività che raramente si può... Sì, direi che sono stati due no down che Fragomeni ha cercato per recuperare dopo la serie dell'avversario. Ancora Fragomeni riesce a tenere il suo avversario sul Tivalà perché... Grande cuore! I colpi partono ancora... Da parte di Fragomeni. Anche con una certa precisione, peraltro. È molto attento, guarda l'avversario. Ora l'abito li invita anche a non stare fronte contro fronte. Uno o due di Fragomeni. Ancora Giacobbe. Ai colpi di Fragomeni, anche il montante ha provato il fuggile di Milano. Il campione del mondo che sta difendendo con fatica massima il suo titolo. In questo momento, dopo la nona ripresa, ha virato decisamente dalla parte... Sta facendo un grande combattimento. Ancora la generosità di Fragomeni. Due colpi straordinariamente precisi. Sende dei colpi che gli arriva da parte di Vlodarcic. Da avanti. Ancora Fragomeni. Ma Vlodarcic reagisce, risponde. Fragomeni ancora. Bella la reazione. È veramente incredibile il carattere, il coraggio del campione del mondo. Uno o due di Giacobbe. E che purtroppo il colacco con il suo jab riesce a chiudere la distanza. Sì, ottimo Fragomeni. Ha mandato a voto il jab e poi ha colpito in serie l'avversario. Rimane l'impassibile Giacobbe. Tenta di allontanarlo. Uno, due, tre colpi di Fragomeni. Poi il sinistro, il gaccio sinistro di Vlodarcic. Ancora un gaccio sinistro. Deve tenere più alto il destro. Lì non serve, deve allontanarsi. Perché la reazione è immediata del colacco. E colpisce per primo Giacobbe. Bravo ad anticipare. Deve anticiparlo con il destro di Fragomeni. Il sinistro di Vlodarcic. Ancora Fragomeni. La sede di Giacobbe. È un match intensissimo. L'entusiasmo del teatro di Roma. Entusiasmo in tutti i presenti. Spinge con la testa però Vlodarcic in maniera anche irregolare. L'abito l'ha chiamato un paio di volte. Ora non lo fa. Dovrebbe farlo. Tuttavia ha il volto in avanti. Eh, la testa di Vlodarcic. Ora lo fa in maniera abbastanza scorretta. E pugileppo là il destro di Vlodarcic. Ancora Fragomeni. Corrisponde immediatamente. Guarda, è un grande, è veramente grande. Grande Giacobbe. Grande Giacobbe. Un cuore veramente forte. È una cosa inimmaginabile quella che sta facendo. Una cosa inimmaginabile. Grandissimo. Stiamo onorando questo sport veramente grande. Colpo su colpo. Settiamo. Ascolta. Ti spinge. Ti spinge. Gira. Perché non vuole comprare. Perciò ti spinge. Perciò ti spinge. Spingilo. Fa l'uscire. La vedi che mi si aggrappa a te. Giacobbe. Vedi quanto colpisci. Colpo su colpo. Questo è l'orgoglio tuo. Questo è Giacobbe che conosco io. L'erò. Questo voglio. Colpo su colpo. Allora quando si dice puge di temperamento con gli attributi. Questo è Giacobbe. È Giacobbe persona. Grazie. Guarda. Aveva conquistato il titolo mondiale a Milano nelle stesse identiche condizioni. Con un crescendo nelle ultime riprese. Così come sta facendo adesso. Veramente grande. Comunque vada. Comunque vada. Certamente. E siamo all'undicesima ripresa. E Fragomeni al di là del punteggio a mio avviso se fa altre due riprese così si tiene il titolo. Grande destro di Fragomeni il segno. È stato preciso. Una bastonata terrificante che Vlodercic ha incassato. Senza dimostrare nulla. Tre colpi di Fragomeni e una replica. Una replica di Vlodercic sempre ma Fragomeni c'è sempre lì. Ancora in cazzacolpi. Reagisce. Con grande spirito di sacrificio. Con grande volontà. Ancora Fragomeni. Non molla di un centimetro. Non molla di un centimetro. Veramente. Sulla linea di parità. Ora. Lega e spinge Vlodercic. Si aggrappa le corde. È stato Vlodercic il primo a attaccare. Tentare di attaccarsi le corde. Non Fragomeni. Belli questi colpi da vicino di Fragomeni. Ricordiamo sempre che abbiamo 27 anni. contro 40. Ancora Fragomeni. Si sta dimostrando però che 40 anni sono veramente ancora comuni per poter combattere. a passo di carica. Ha uno sguardo Fragomeni determinatissimo. È lì che guata l'avversario. Gli va addosso. Lo cerca. Bellissimi colpi. In cazzacolpi. Di Fragomeni però c'è sempre la reazione. E' forte, è forte Vlodercic. Non ha mollato un attimo. Non ha lasciato nessun colpo di Fragomeni senza reagire. Il sinistro di Giacobbe. A vuoto poi ambi due. Ancora Giacobbe che cerca l'avversario. Lo pressa. Lo tiene da vicino. Questa serie interrompile Giacobbe. Il destro di Striscio da parte di Vlodercic. Bravo, bravo. Il destro incontro di Fragomeni. Il destro incontro molto bello. E beh, qui ragazzi sta facendo qualche cosa di inimmaginabile. Sì, raramente possiamo vedere dei match così intensi. Lega in maniera plateale Vlodercic perché non ne ha più. E ancora Fragomeni. Se riuscisse a fare anche la prossima così. Se solo riuscisse. Sta attaccando, sta attaccando Fragomeni. Sì, va via Vlodercic. Se ne sta andando. Se lo chiude all'angolo e dai un paio di colpi. Prima di che finisca la ripresa. Bisogna che chiude. Ancora, ancora. No, no. No, no, no. Una spinta, una spinta. Meno male. L'ha capito. È una spinta. Ma no, una spinta vera. Reagisce Giacobbe. Il sinistro di Vlodercic. Poi lega Giacobbe. Dopo l'atterramento casuale. Poteva anche. Ancora 1-2 di Fragomeni. Una spallata del milanese. Arretra Vlodercic. Attacca ancora. È incredibile quello che sta facendo. È straordinario. Come sta trovando alle porte Fragomeni. Non si sa. È incredibile perché. Straordinario Giacobbe. È penalizzato dalla statura. Termina l'undicesimo ripresa. Beh, io non ho... È difficile commentare... No, è difficile dirlo. È una cosa che non rientra nei canoni normali del pugilato. Io penso che negli ultimi anni non ha precedenti proprio una cosa di questo genere. Sì, è raro vedere un compaggimento come questo. Adesso lui ci proverà a rispondere. Ma devi stare tranquillo, Giacobbe. Risponde, risponde tranquillo. E ha fassurato due, Giacobbe. È un grande, guarda. Ci stiamo giocando. No, se non è in touch, that's a great fight. Giacobbe, ti stai giocando tutto questo lato. Devi dare tutto te stesso, Giacobbe. Tutto te stesso. Non ci sono così di tecnici. Adesso è co. È co. Giacobbe è co. Vediamo, vediamo. Le raccomandazioni di Olivas sono pure quelle di... L'abito, l'abito gli ha raccomandato... Di metterci il cuore. Di attizionare la testa e ai guantoni. E ha arrivato a lui la freddezza di rispondere. Non ho capito niente. È stato perfetto. Va bene. Siamo alla dodicesima ripresa. Ed ultima. Ha avuto quei due atterramenti nella nona, Giacobbe, ma non è successo niente. Ha incominciato proprio... Ora si fa a tavoletta questa. Il titolo non so se lo lascia. Non lo so. Sì, dovrebbe farcela perché l'ultimo round lo sta facendo proprio... Deve fare, deve colpire. Attenzione, attenzione a Cerotto. A Cerotto. A Cerotto. Sì, molto bene. D'accordo, d'accordo. Serve anche questo. No, 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 no. Serve anche questo. Certo, si riposa anche il Lodacic. Ma sai, certo. Ma vediamo un attimo quello che ci c'è. Riprende la teoria dei colpi della campione del mondo. Da vicino è... Continua a tenere l'iniziativa sul gancio sinistro di Blodacic. Ha reagito con tutto il destro di Blodacic e sinistro di Fregomeni. Assegno ancora Fregomeni. Uno, due al voto. A vuoto Blodacic. Assegno ancora Giacobbe. Diciamo che i colpi più belli sono quelli del nostro. I colpi di Blodacic arriva a sbarramento, ma non così frequenti e precisi come quelli del nostro campione. Ancora Fregomeni, di nuovo. E la serie, l'interrotta di Fregomeni, non si sa dove prenda le energie. È incredibile. Io non ho mai visto una cosa di questo genere. Sì, beh, un match come questo è raramente, possiamo vedere. E uno scambio di colpi da vicino al dodicesimo grande. Il destro di Fregomeni è arrivato a segno. Con una grande velocità di entrambi. E ancora Fregomeni. Ancora a segno il nostro fuggile. A vuoto, a peccato. A vuoto anche Blodacic con un sinistro pesante in partenza. Deve togliersi, deve togliersi da quella posizione. E arriva l'abito, fortunatamente, a dargli la mano. E deve andare avanti. E si appoggia un po' le corde, Giacobbe. Per trovare spazio, come fa in questo momento. Belli colpi di Giacobbe. Ha visto aperto, incurante dei colpi dell'avversario. Non gli importa nulla. E continua a dare. Si attacca le corde, Blodacic. Sguardo in trans quasi di Fregomeni. Però la... Il destro, ancora a sinistro di Fregomeni è segno. Però la schivate che riesce a fare. Significa che sta ragionando. Si è ancora con la testa e con la mente lucidissimo Fregomeni. Uno, due, tre colpi. Incazza Blodacic. Fregomeni va a vuoto. Il destro di Fregomeni. La spallata di Blodacic. Attenzione alle spalle. Sta appoggiato, sta appoggiato. Attenzione alle spalle di Blodacic. E Giacobbe non è capace di dargli lo spallato anche lui, però. È incredibile, guarda. Una vitalità impressionante. Una forza veramente incredibile. Grazie, ma ha 40 anni questo qui. Si, è quello che sta a significare. E dalle corde è lui che tiene l'iniziativa. C'è gente di 40 anni che fa fatica a salire le scale. Che succede? Che c'è ancora? Ah, no, ho visto Bolivar con il quattro cimano per togliere. Qui c'è. Molto bene. Riparte. Dieci secondi, gli ultimi dieci secondi. Se riuscissi a chiudere con qualche colpo ben messo Fregomeni. Ancora, ancora. Sono gli ultimi secondi. Benissimo. Ci sono stati due conti finali che sono andati bene. Ha legato. Ha segno. Occorre a vedere. Sto facendo un po' di conti velocemente. Ragazzi, io ho un incontro in parità o forse con un punto per Giacobbe perché è un mio amico. Veramente ha fatto un remoto eccezionale. E' stato un match di quelli proprio che raramente si possono vedere. Il nostro giudice di fronte sta dicendo che ha vinto e quindi... Allora, io faccio un po' di conti però, eh. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, tre, tre, sei, sette. Fregomeni. Centoquattordici, centotredici. Glodarschik per me. E con Lima con... Ancora, ancora fresco, ancora... Sì, sono tutti e tre i round, sì, è giusto. Infatti controlla anche il mio cartellino, ringrazio, sono Dol Piero. Che dopo il doppio attento del terramento... Comunque ha fatto una rimonta impressionante. Una rimonta impressionante. Un cuore, coraggio, forza, tutto. Io gli devo chiedere appena arriva che cosa ha combinato e che non ha ripreso. Perché il titolo, credo, che rimanga in Italia. Sì, perché non si può portare via un titolo con un incontro così. Potrebbe essere un pari. Potrebbe essere un pari. Se c'è un pari, se c'è un pari, il titolo rimane a chi lo detiene. Tanto di cappello perché Glodarschik non ha lasciato... No, 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 nulla di intentato. Non ha lasciato nulla, ma non ha mai... Non ha mai non risposto, non ha mai lasciato l'attacco di Fagomeni. Non ha mai lasciato l'attacco di Fagomeni. Non ha mai lasciato la lettura dei cartellini dei giudici e proclamare il risultato del campionato del mondo. È come se... Sentiamo un pochino i cartellini perché mi interessa molto questo. L'arbitro dell'incontro, il signor Ian John Lewis, si complimenta con i due pugili e per il bellissimo spettacolo che hanno dato sul ring. È certo. È vero che è stato uno spettacolo di pugilato. I giudici Letosari, James Davis e Doppier, che abbiamo già sentito poco fa, avere un punto per Fagomeni, Doppier, come il mio peraltro. Speriamo negli altri, no? È già qualcosa. Gira l'aria del pari. Vedo molto le facce da pari. Facce da pari? Certo che scrivo. Io ho 114 a 113 per Fagomeni. Vediamo. C'è grande tensione ovviamente. C'è anche spada sul quadrato. Ok. anche da quelle cartellina allora abbiamo ancora qualche ritardo vediamo se riusciamo a sentire se l'augurio tra domenica marinelli ma ormai a posto d'arrivo parlato con suo padre prima mi ha detto che sta veramente riprendendo particolarmente difficile anche la soluzione ai punti è perché vedo molto conciliabolo si molti conteggi e in tuttavia ragazzi i numeri su numeri e allora vediamo il presidente della wbc bob logist con il ring announcer in lingua inglese ci siamo allora ci siamo sentiamo sentiamo è tutto pronto grande tensione diamo la lettura del verdetto allora andiamo forza ladies and gentlemen after 12 sensational rounds of championship boxing the judges scores read judge richie davis scores a contest 112 116 presidente giudice davis 112 a 116 Giorgio letter sorry 114 114 cioè centrone 114 a cento c Brava rinconfei 114, 113. 132. Incontro pari. Incontro pari. We have a draw, and still the WBC Cruiserweight Champion of the World, from the World for Italy, Frada! È giusto. Non gradisce, Non gradisce Brotherchick. e tuttavia come non essere d'accordo? Sì, è un match difficile da giudicare soprattutto perché entrambi hanno lavorato in una maniera straordinaria. Quattro punti non c'erano però per Roderci. No, quello non ho capito come potevano esserci quattro punti. Il colaco assolutamente no, non mi sembravano proprio non mi sembrava neanche il caso che li reggesse quei quattro punti sicuramente il risultato è pari è un risultato che premia entrambi i bugi che hanno fatto un match di straordinaria intensità io posso capire un punto per Roderci come abbiamo un punto per Fragomeni però quattro per i polacchi li trovo un tantino esagerati ora se noi riuscissimo ad avere con una certa velocità Fragomeni il match pari però è quello che salva tutto perché occorreva veramente anche perché i premi i due pugili che è un'attività